Ben ritrovati amici di Oké Watch Italia, no, non siete impazziti, ma sto per fare una cosa nuovissima sul canale, non so se verrà apprezzata, ma per questo vi chiedo di guardare, almeno mi darete dei consigli, mi dite il vostro parere, anzi me lo scriverete nei commenti, mentre lasciate un bel like. Lo sapete benissimo, io sono un mega fan anche di Pokémon, ho già provato a portare delle serie qua su YouTube di Pokémon, non sono andate benissimo, però fa niente, perché poi le ho portate su Twitch. Dato che adesso Twitch non ha tempo di fare live, ho detto, ciao, torniamo a fare dei bei video. Ne avevo già parlato in live su Twitch, che mi sto appassionando alle carte Pokémon. Non sono un pro, ve lo dico già, anzi l'ho già detto, io mi sono appassionato vedendo amici unboxare in live dei Mega Charizard, dei Charizard VMAX, non le so le differenze, perché io ho unboxato una cosa per ora, che è quello che vorrei unboxare ancora con voi. Ho unboxato solo questo qua, ho unboxato solo questo box di futuri campioni a terene, e devo dire che sono stato fortunato, fatemi recuperare la carta, non ho neanche le slips, ho trovato questo Gardevoir VMAX. Sapete come mi piace unboxare, perché ho fatto milioni di video unbox di medaglie a Yokai, e cacchio, adesso dobbiamo sculare pure su Pokémon. Ok ragazzi? Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, se vi piace questo progetto, anche perché io ho fatto dei preordini di box, dovrebbe arrivarmi sicuramente, voltaggio sfolgorante in questi giorni, e dovrebbero essere 36 bustine, però ragazzi, dai, chi se ne frega. Io non farò un unboxing che vedo, ragazzi che bello questo a terene, bello questo viola, mi piace un sacco, guardate la... No, non me ne frega niente, sapete che io vado dritto, cercherò di fare pochi tagli come sempre, vi faccio sentire i rumori dell'unboxing, sentite, di questo bel cartone che si apre piano piano, imparte la rabbia, oh, oh, tac, cartone, via, non lo voglio più vedere, lo buttiamo. Allora, dentro questa miliardata di plastica, abbiamo quattro bustine futuri campioni, la mega cartolona di a terene V, che già ho, perché vi ho già detto che l'ho già unboxata, e uguale, uguale c'è la... via, lo buttato, la cartina qua, cartina è un po' da tossico, la cartina di a terene V, che se volete ve la faccio vedere, non... Sì, è bella, è una holo, io da ragazzo unboxavo le carte di Yu-Gi-Oh, e credo che si chiamano uguali, holo, ultra, mega, non lo so. Ho imparato da poco a fare il trick delle quattro carte più due, quindi, vabbè, ci prova anche qua. Mi sono esercitato, con quelle quattro bustine mi sono esercitato. Allora, questa terena qua, la togliamo, e molti fanno vedere, qua c'è Dreadna o V-Max nella bustina, la bustina è sigillata perfettamente, chi se ne frega, ragazzi, noi dobbiamo unboxare. Cerco di non disintegrare le bustine, ovviamente. Mamma mia. Vai, apriamo. Ok. Come si fa? È difficile, è difficilissimo. Uno, due, tre, quattro, uno e due. Qua tutti quanti dicono, ah, ho già sentito... Io non sento una mazza, ho perso la sensibilità di polpastrelle. Allora, vai, andiamo. Pozione. Un Vulpix. Machop. Stranamente ce l'ho già. Rolicoli. Carvagna. Energia fuoco, immagino, non conoscendole. Sciarpido. Cibo in scatola sospetto. Addetta al centro Pokémon. Uh, un Liepard. Non mi ricordo come si chiamano. Che lo suono retro, buh, buh, buh. Attenzione. Attenzione. Qualcosa di grosso, già la prima bustina. Grapplocked V. Sapete che mi sa che già lo avevo? Vabbè, chi se ne frega, un in più, un in meno. Entrerà comunque nella collezione. Dato che ho pochissime carte. Sono... Ho 40 carte. Anzi, 41 carte. Seconda bustina. E comunque direi che siamo partiti bene con una V. Tra l'altro l'avevo shiny andato. Grapplock. Perché mi piaceva un sacco. Beh, non proprio Grapplock. Vai. Seconda bustina. C'era il crimi qua davanti. Via. Allora. Uno, due, tre, quattro. Uno e due. Non ho sentito una mazza. Pozione. Vulpix. E' uguale all'altra. Incai. Non c'era Incai prima. Pokeball. La mia pokeball preferita. Slizipidi. O Slizipede. Energia. Erba. Recluta Team Yell. Victini. Spettacolo Victini. Arbok. Atterene. Giustamente nel box di Atterene. Vuoi non trovare Atterene. Attenzione. Un'altra V direi. Duraludon. Yes. Duraludon. Bello Duraludon. Mi piace un sacco come Pokémon. Comunque due bustine e due V. Direi tantissima roba. Tantissima roba. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Roba grossa. Roba grossa ragazzi. Non so neanche se farvi sentire tutti i rumori tipo ASMR. oppure mettere la musichetta sotto. Io penso. No. Si è aperta male questa. Questa si è aperta male. Potrebbe esserci l'impossibile. Vi ricordo che stiamo cercando Charizard. Ma non lo troveremo mai. Perché sapete che sono sfortunato. Le vedete le mie pullate su Puni Puni. Tra l'altro a breve ci sarà un nuovo evento Puni Puni. Allora. Mi sta via. Widdle ragazzi. Tac. Zigzagoon di Galar. Rockraff. Cura totale. Screghi. Io direi che è un'energia elettro. Così a occhio. Cibo in scatola sospetto che già avevamo. Sonia. Eh tanta roba Sonia. Ne sa la ragazza. Ne sa la ragazza. Leopard. L'ho già trovato. Sì. Attenzione. Uh energia fuoco o holo. Mi piace un sacco. Ah e qua niente di buono. Ah uno Zygard. Bellissimo. Tanta roba Zygard. Mi piace un sacco. Figo figo. Sono contento. Allora questi però li mettiamo qua. Ultima bustina ragazzi. Mi raccomando. Fatemi sapere se vi può interessare. Come ipotetica serie. Nel frattempo io apro. C'è sempre Dread. No qua sopra. Ditemi. No guarda non si fa così. Mi devi dire anche quello che c'è scritto sulle carte. I numerini. Bla bla bla. Io non so una mazza. Quindi. In questo caso. Ogni consiglio è ben accetto. Purché sia costruttivo. Oppure. Ah voglio che mi fai vedere i codici. Boh io ci posso provare. Volevo. Volevo anche provare a scaricare. Il gioco. Di carte. Uno. Due. Tre. Quattro. Uno e due. Tac. Ma si può fare anche tipo solo quattro. Mettere davanti. Boh credo di sì. Allora. Pozione ragazzi. Vulpix. Ne avremmo trovato tipo ventordici di Vulpix. Incai. Anche lui. Un'altra Pokéball. Cos'è? La stessa bustina. Slizipede. Uguale. Questo qui è energia acciaio direi. A occhio. Kabu. Mi sembra che era abbastanza facile Kabu. Come allenatore. Liepard. Uno dei 42 Liepard. Il fantastico. Il Ginepro. Recluta. Team Yell. Retro. Com'è che si chiama sta roba qua? Non me la ricordo. L'ho segnita qualche volta eh? Niente ragazzi. Però. Altaria. Roba grossa. Altaria. Ragazzi. Allora. Come prima. Unboxata. Abbiamo trovato due V. Graplocked. E Duraldon. Credo che valgono due euro l'uno. Però. Tanta roba. Tanta roba. Sono stracontento. Non sembra ma sono stracontento. E che ancora devo ambientarmi pure io. Con questa roba qua. Delle carte Pokemon. E costano un botto. Cioè una bustina. 7000 euro. Fuori di testa la gente. Va bene. Allora. Mi raccomando. Like. Fatemi sapere. Cosa ne pensate. Consigli. Consigli. Manetta. E come sempre. In descrizione. Ci sono tutti i link. Riguardanti. Ormai. Puni. Puni. Il sito. Intra. Telegram. E tutto quanto. Va bene ragazzi. Oh. Io ci tengo. Ci tengo. Ai vostri consigli. E ditemi tutto quello che ne pensate. Va bene. Alla prossima ragazzi. Ciao ciao. Ciao.